Il sindaco Lucio Greco, giovedì scorso in Consiglio Comunale, tra tanti sconvolgimenti politici, ha dimostrato sicurezza, spiegando di essere certo che la maggioranza sia coesa. Ci sono però segnali che l'avvocato farà bene ad interpretare con molta attenzione. Sabato, il vice sindaco Terenziano Di Stefano, riferendosi all'importanza dei finanziamenti di qualità dell'abitare, ha detto di attendere che sia il sindaco a convocare il tavolo tecnico dando avvio alla fase 2 con la nomina del gruppo di lavoro. Secondo Di Stefano, infatti, i tempi sono sempre più stretti. Anche dai centristi della nuova DC però i segnali che arrivano non sembrano così incoraggianti. Gli esponenti cuffariani in giunta hanno l'assessore Giuseppe Licata, impegnato su diversi fronti, a non convincere il coordinatore cittadino Natino Giannone e il consigliere Vincenzo Cascino e l'eccessivo attendismo del sindaco su un tema sempre più importante come la crisi delle dighe e dell'intero comparto agricolo locale. I centristi vogliono riscontri dal primo cittadino. Appoggiano l'attività svolta da Licata. Parlano di un lavoro svolto con grande impegno e passione in diversi settori, anche piuttosto complessi a livello amministrativo. Fanno riferimento alla delega, alla polizia municipale, ma anche alla tutela dei diritti degli animali. Secondo i vertici della nuova DC, Licata sta attivando una programmazione che prima non c'era. Così richiamano anche l'iter per l'affidamento del servizio di sosta a pagamento, ma anche le attività per la segnaletica stradale e le ciclovie. Sul problema che vivono gli agricoltori, Licata è intervenuto per cercare di arrivare alla riparazione dell'interconnessione tra le dighe Cimie e Disueri che è stata effettuata nelle ultime settimane. La nuova DC però aveva chiesto un incontro al sindaco proprio su questo tema. Cascino e Giannone si meravigliano che Greco non abbia ancora dato riscontro e non sia attivato un canale diretto con l'assessore regionale Daniela Baglieri per convocare appunto un tavolo tecnico di emergenza che coinvolga anche il consorzio di bonifica. Secondo i vertici della nuova DC, toccava proprio al sindaco farlo. Forse per la prima volta i centristi mettono in discussione l'operato del primo cittadino facendo emergere una certa preoccupazione, anche politica. Parlano di una situazione politica che non è serena e non sono state quindi create le condizioni per averla, così riferiscono i vertici cuffariani. Ribadiscono quindi che c'è un problema di fondo e che in maggioranza forse ci sarà la necessità di un'ulteriore verifica all'ennesima, questa volta però ad essere chiamato in causa direttamente il sindaco greco.